Vedere i miei frutti. Ho pensato che in questi anni io debbo collocare il verbo seminare, seminare e seminare. Poi la raccolta verrà da sé, verrà quando verrà, però credo è importante che noi ci mettiamo nel contesto della semica. Monsignor Mescovo, eccellenza, signor sindaco, autorità militari, devoti, raccolti come il consueto in questa splendida patrice, io vi porgo il saluto. Un saluto porgo anche a un cittadino onorato. Dico il maestro Simone Alaino che qua è stasera a onorare da devoto questa liturgia. Eccellenza, non ci possiamo permettere un lungo discorso. Solo non posso notare, e io parlo non a titolo personale, ma parlo anche a nome degli onorevoli confratti che insieme a me servono questa chiesa di Prognosa e quindi la chiesa di Roma, nel notare quale privilegio si è compiuto al compimento. E' un testo prezioso per noi, perché in ogni situazione, lo diamo alla legge, troverà quanto d'immenso sapere si può ricamare dalla lettura di queste pagine che vanno dal passo di due euro nel nostro giorno. L'opera di Luigi Fidà. L'opera di Luigi Fidà è anche col consigliare il Cristo. Un'altra opera strega. Luigi Fidà racconta l'Inevi 12, i loro canti in onore di Sant'Egidio a Bacchia, dal X al XX secolo. Io credo che da questa confluenza, da questo incontro di forza laica e di forza clericale, possa nascere un avvenire di speranza per le nostre comunità. Questo è il messaggio che ci permettiamo di... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.